Ciao Popolo Elega Nerd, io sono Gabriella e benvenuto a un nuovo appuntamento con Binge Stream, la nostra rubrica tanto on demand quanto in live, che vi accompagna nel meraviglioso mondo del cinema e della serialità in streaming. Attesissimo come un regalo di Natale, o forse visto il periodo dovremmo dire Pasqua, il 5 marzo è arrivato su Prime Video Il Principe Cerca Figlio, sequel dell'iconico film del 1988 che vede nuovamente come protagonista Eddie Murphy nei panni dell'iconico principe di Zamunda. Voi l'avete già visto? Diretto nel 1988 da John Landis, Il Principe Cerca Moglie consacrò Eddie Murphy al re della commedia. Tra il dissacrante e il sarcastico, Il Principe Cerca Moglie è una commedia divertente, brillante ed anche una storia d'amore che riesce a superare i confini razziali e sociali, ma non è solo questo. Una commedia senza tempo che all'epoca andò a segnare un fortissimo record al botteghino, incassando infatti 288 milioni di dollari a fronte di un budget decisamente più irrisorio. Avete bisogno di schierirvi le idee? Bene, è l'ora di un ottimo rewatch su Prime Video. Cosa sappiamo invece del Principe Cerca Figlio? A distanza di 30 anni, il Principe Hakim, fresco d'incoronazione, colpisce ancora. Questa volta però dovrà ritornare lì dove tutto è cominciato, nel Queens degli Stati Uniti, non per trovare l'amore della sua vita, ma bensì per ritrovare il figlio perduto. Ovvero la Vell, interpretato dalla new entry Jeremy Fowler. Il Principe Cerca Figlio segnerà un vero e proprio ritorno alle origini. Rae Kim infatti, dopo essere stato incoronato, riparte verso il Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato e dove ci saranno ad attenderlo nuove avventure. L'obiettivo è quello di ritrovare il figlio perduto, tornare a Zamunda e istruire il ragazzo secondo i doveri reali. La città che troverà ad attenderlo è però decisamente cambiata rispetto a quella che aveva conosciuto negli anni Ottanta. E questo lascerà lo spazio ad esilaranti siparietti e momenti comici. Ovviamente tutto questo non sarà da solo, ma ancora una volta accompagnato dal fedele Sammy. Tanto Murphy quanto Arsenio Hall si cimenteranno in duplici ruoli come nel primo film, e non saranno gli unici attori a tornare dal cast del Principe Cerca Moglie. Accanto a loro infatti vedremo volti conosciuti come quello di Sherry Hadley, James Earl Jones, mentre tra le new entry troveremo Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan e Bella Murphy, la figlia del nostro Eddie che ha deciso di seguire le orme del padre. Le premesse sembrerebbero ottime, facendoci intendere che la qualità del film sarà tanto alta quanto lo è stato il suo predecessore, anche a livello culturale. Pertanto i motivi per cui amare questo secondo capitolo potrebbero essere molteplici. Allora è inutile perdere tempo e cominciamo a mettere play dal nostro telecomando. Il Principe Cerca Figlio vi aspetta dal 5 marzo su Prime Video. Noi invece vi aspettiamo nei commenti qui sotto perché vogliamo sapere tutto quello che pensate di questo film. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!